ciao sono robbie robot ero un robot qualunque fatto di carta e simpaticamente colorato un giorno ho deciso che dovevo imparare a muovermi ho imparato a giocare al pugile a saltare la corda prima con chi è solo poi con due poi ho realizzato il mio sogno imparare la rap dance ad un certo punto hanno avuto problemi a tenerli fermo corrido da una parte all'altra so anche saltare sul posto è stato divertente farvi vedere quanto sono diventato bravo ciao il futuro è al secondo circolo didattico di spoleto dove la tradizione incontra l'innovazione stem challengers grazie a tutti